I giudici del Tarre, assediati dai comitati che da mesi contestano l'insediamento delle centrali a biomassa nel cuore del Matese, a porte chiuse hanno rinviato ogni decisione al prossimo 9 luglio. Prima la revoca decretata da Paolo Frattura e poi l'annullamento deciso dal Servizio Politico Energetico della Regione, non sono bastati a convincere la Civitas e la ditta di Zio a rinunciare alle richieste di risarcimento danni per oltre 30 milioni di euro. Anzi, gli avvocati che difendono le due aziende hanno preannunciato una integrazione a ricorso proprio alla luce dell'annullamento delle autorizzazioni, ma i difensori delle amministrazioni comunali e dei singoli cittadini non mollano. Oggi c'è stato un passaggio più interlocutorio che di merito. La prospettazione del Tarre è che queste questioni vadano trattate tutte contestualmente, pertanto le ha differite al 9 luglio perché? Perché sia una sovrapposizione anche di atti amministrativi. Ci sono i ricorsi che noi abbiamo promosso contro l'annullamento, poi c'è un primo ripensamento della Regione che revoca queste autorizzazioni, lasciando però aperto il fronte sul discorso risarcitorio e poi c'è un ulteriore provvedimento della Regione, questa volta della struttura, che riesaminando proprio il provvedimento alla luce di ragioni di legittimità e non di opportunità, riconosce fondatezza in buona parte delle censure che noi abbiamo rilevato nell'atto di ricorso. Quindi rimuove i provvedimenti dall'origine e sterilizzando anche i profili che possono riguardare i rischi risarcitori. Per trattare tutta questa materia, che peraltro è complessa perché poi c'è una sedimentazione anche storica abbastanza articolata, il Collegio ha ritenuto opportuno una trattazione quantomeno congiunta o contestuale all'udienza di luglio, nel corso della quale verranno sciolti tutti i problemi. Ma la Civitas e la ditta di Zio impugneranno anche l'annullamento? Le controparti hanno impugnato sia le revoche della Regione che l'annullamento della Regione. Quindi da questo punto di vista ci saranno questi ulteriori due fasi sui ricorsi fatti dalla Civitas e da Zio sul ricorso per la revoca e per l'annullamento dei provvedimenti. Fiducia nella decisione che assumerà il Tar è stata espressa dai comitati che comunque mantengono alto il livello di guardia. Ma io sono molto fiduciosa, si sapeva che oggi avrebbero rinviato perché l'annullamento è arrivato proprio alle porte dell'udienza e alla luce del giorno che queste autorizzazioni sono fasulle, cioè non erano autorizzate, non erano legali già a priore. Però sia la Civitas che la ditta di Zio hanno preannunciato un'integrazione a ricorso e comunque l'impugnativa anche dell'annullamento. Ma io penso che stavolta resteranno con un pugno di mosche in mano. Davanti al Tar anche i promotori del Camber per la legalità per testimoniare che i conflitti di interesse e gli intrecci tra affari e politica non avranno vita facile.